Siamo alla seconda edizione del Daddy's Music Fest, che è un grande evento di beneficenza, ideato e voluto perché Danilo aveva tante risorse, aveva tanti hobby, uno di questi era fare il DJ, ecco perché Daddy, perché era il suo nome d'arte, è un grande evento di beneficenza, quindi una grande raccolta fondi, una possibilità ai ragazzi esordienti nel mondo della musica come DJ di esibirsi su un palco meraviglioso e un grande momento di aggregazione, di amore, che coinvolge tutte le età. L'anno scorso la bimba più piccola aveva due mesi e la persona più adulta aveva 80 anni, quindi quest'anno abbiamo anticipato l'evento perché cominceremo lo start alle ore 18 del 27 luglio allo Smile Arena e ci saranno tanti giovani, tanti giovani. La cosa bellissima è che tanti giovani ci supportano in maniera gratuita, in maniera altruistica e con un grande amore, quindi vi aspettiamo in tanti, vi aspettiamo, dobbiamo riempire quell'arena per dare forza ai giovani, per non dimenticare Daddy's che non sarà mai dimenticato perché è il nostro motivo portante, ma soprattutto per supportare e aiutare tanti giovani. Se dovessi entrare nel merito e nell'organizzazione dell'evento non vorrei scollerare tutto, però quest'anno siamo molto più grandi dell'anno scorso, quest'anno abbiamo avuto ancora di più risposte positive rispetto all'anno scorso, abbiamo delle organizzazioni di Arellino e delle città di Mitrofe, siamo arrivati anche a Salerno con determinati gruppi che ci hanno accompagnato, che fanno questo di mestiere e abbracciano la nostra causa e ci supportano su tutto e quindi sono Glence, Nada Mass, Inside Italia, La Nuit Event, Movement ed Enjoy, che sono tutti ragazzi che fanno questo per mestiere e che ci supportano nella causa e ognuno di loro ha portato qualche ragazzo della loro compagnia a suonare con noi. Quest'anno avremo più di 12 DJ, avremo una mascotte, per la prima volta ci sarà un bambino di 7 anni che aprirà il nostro evento, per la prima volta avremo una ragazza, Yaio, a suonare al nostro evento, ci sarà DJ Logo, ci sarà Emanuele Agostiniano, Dario Maccani, con Nicola Martorano, Danilo Alucino, Cico, Alessandro Fontana, Galano, Flera, Clast, Vincenzo Russo, Yuri DJ, siamo tantissimi quest'anno proprio per fare festa sia per l'evento che per la causa stessa. I generi del nostro evento sono tutti, cioè noi non abbiamo escluso nessuno, abbiamo accettato anche addirittura candidature quest'anno di alcuni ragazzi che volevano entrare a far parte del nostro gruppo come DJ all'interno della line-up, apriamo anche, cioè per l'anno prossimo siamo pronti a far ingrandire ancora di più la nostra squadra. Io a nome dell'associazione ci tengo a ringraziare tutti questi gruppi e tutti i ragazzi, gli artisti che saliranno sul nostro palco e non vedo l'ora e spero che ci siano davvero tante persone perché ce la stiamo mettendo davvero tutta e la causa non ne vale la pena di più. Abbiamo aperto i nostri rami fuori da Avellino e siamo arrivati fino al Radio Marte con Gigi Soriano e Gigi Rosa che saranno i nostri special guest dell'evento con un VIP party, cioè praticamente loro verranno a fare festa con noi. Il loro format sta girando in tutta Italia e verranno anche da noi a unirsi con i nostri artisti.